ben ritrovati cari amici spettatori apriamo con il g7 27 che scopre di essere in possesso un orologio falso e poi preso dalla rabbia lo prende lo distrugge come al solito vanno alle ciance e lascia la clip c'è una cosa che a me mi fa tanto incazzare se c'è una cosa che mi fa tanto incazzare sono questi orologiacci falsi e sai con questi orologiacci falsi fratellino che ci si fa i butti per terra così che fanno schifo fanno schifo fanno schifo fanno una questione di mancanza di rispetto fratellino fratelletto ho preso adesso il mac lo sono portato così ti dico se facevo un incidente dato che stavo guidando solo con una mano oggi erano panini gratis per tutti e fratelli sta arrivando quindi il treno con le calze però fratelli la vera domanda è dove abbiamo lasciato le mutande perché qui io non le uso più ti dico la verità non dirà nessuno fratellino fratellino ma l'orologio che mi hai visto distruggere ma secondo te quello è un orologio che io ho promosso ma ti stai sbagliando fratellino il taiduna che ho promosso era quello bianco e quello nero non era un e a seguire bello figo durante una stories flexa dicendoci di aver speso 5000 euro ma guardando attentamente si vede che la cifra che mostra è un versamento quindi un'entrata e non una spesa non verrei più a che fare non voglio far uscire il mio album non se non voglio far uscire il mio album non se non pao non pussiluma per colpa di pussiluma non voglio far uscire il mio album non se non pao shit non ho mai cappato non verrei qui a farlo ora chiaro allora per l'ennesima volta non se non pao quanto speso non sei non verrei più a che pao why solo per il pomeriggio non Tom pao lai non se 5000 euro solo per il pomeriggio non Tom pao non si luma non potrà mai non se 5000 euro solo per il pomeriggio pussiluma non potrà mai non ton pao non se non ho mai che passo non verrei qui a farlo ora non tam pao non se lai pussiluma non potrà mai non c'ambo non tam pao pizza è mia pizza è mia non tam pao Anche per oggi queste sono le informazioni che abbiamo, se ci dovessero essere ulteriori sviluppi saremo qui prima in linea per riformarvi. Vi ricordo l'appuntamento con la live stasera alle 21 e ricordatevi ogni passo che fanno, ogni respiro che emettono, se flexano e ci mostrano nel stato conto oppure se acquistano un orologi fasulli saremo qui prima in linea per riformarvi. Grazie e alla prossima.